Radio Radicale, siamo con il senatore Nencini del Partito Socialista per parlare della situazione di Radio Radicale. Allora, il comitato di redazione di Radio Radicale, dopo non aver ottenuto alcuna risposta da Di Maio, ha chiesto un incontro al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vito Grimica, la delega sull'editoria. La situazione è particolarmente grave perché tra poco più di un mese Radio Radicale rischia di chiudere. Senatore, volevo sapere se lei è preoccupata. Sono così preoccupato che a suo tempo preparai un'interrogazione per il Governo che poi bloccammo perché la situazione pareva evolvesse in maniera positiva e così non è stato. Stiamo lavorando ad una mozione di tutti i gruppi dell'opposizione al Senato e spero che vada in aula quanto prima. C'è un punto che va fissato. Se c'è stato un emittente che nel corso degli anni, ormai dei decenni, ha mantenuto una grande libertà di comportamento sostenendo o andando addosso ai Governi, indipendentemente dal loro colore politico, il proprio Radio Radicale. Quindi chiuderla e mettere un occhio alla libertà di informazione, non un dito in un occhio al Radio Radicale. Ecco, tra le accuse che aveva espresso il Governo attraverso le dichiarazioni di crimi è che Radio Radicale godeva di una situazione di privilegio. Volevo sapere se lei, diciamo, questo privilegio lo aveva visto. L'unico privilegio che vedo è in una informazione che copre a 360 gradi tutto lo scibile politico-istituzionale senza nessuna differenza. Ci sono congressi di partito, di ogni partito, piccolo, medio, grande, non ha importanza, è Radio Radicale, basta chiamarla. E c'è una rassegna stampa assolutamente completa che non apre il barco a nessuna forma di disservizio. Da questo punto di vista il merito e il talento vengono pagati giustamente. Volevo sapere se lei attraverso un solo clic riuscirebbe a trovare in altri siti quello che cerca su Radio Radicale in merito alla vita politica italiana del Paese e ai suoi stessi interventi. Con un solo clic ne dubito. Magari scavando all'interno della rete forse riuscirei a trovare anche di più. Ma siccome il tempo è prezioso e siccome Radio Radicale offre un servizio istantaneo, mi terrei Radio Radicale volentieri. Che impressione ha sulle reali intenzioni del governo nei confronti dell'editoria e soprattutto di Radio Radicale? Che cosa può aver dato fastidio di Radio Radicale oltre il diritto sacrosanto alla conoscenza? Ci sono dei periodi nella storia, storia italiana inclusa, dove alcuni governi rappresentano una pancia terribile degli italiani e pare che avvino il Paese verso il salto nel buio. In questi casi verso forme di uomini soli al comando dai quali bisogna sempre prendere le misure e lottare perché questo non avvenga. In questo caso ciò che fa girare le scatole immagino sia la libertà di informazione. Non è l'unico caso quello di Radio Radicale ma è quello più facile da colpire perché non c'è un partito forte in Parlamento che possa opporsi in maniera virulenta. Radio Radicale e chi sta dietro a Radio Radicale dal punto di vista politico, ideologico, culturale, non minaccia, fa il suo mestiere. Quindi deve essere il Parlamento oggi, nella sua coralità, a svolgere una funzione che un solo partito politico non può assolutamente svolgere in questa difesa. Volevo sapere come ha trovato la mobilitazione nei confronti di Radio Radicale. Volevo sapere se è soddisfatto del fatto che molte forze politiche, tranne forse il Movimento 5 Stelle, non vedono di buon occhio questo sostegno. L'opposizione si è comportata per una volta in maniera assolutamente positiva, molto dignitosa. Ci sono dei buchi che cominciano ad allargarsi, delle fenditure anche nei partiti che stanno sostenendo il governo. Mi permetto di suggerire anche una sola giornata ma in piazza. E lì provare a far capire a un pezzo dell'Italia, a una parte degli italiani, che l'informazione alla fine libera è un vantaggio per tutti, soprattutto in un tempo di fake news. E quindi se c'è un organismo che dà una lettura la più completa e la meno superficiale possibile, ben venga. Ho capito. Quindi lei propone un'iniziativa pubblica? Assolutamente sì, ne farei parte molto volentieri. Tutto quello che si fa in questi casi, dalle maratone oratorie, alle quali ci hanno abituato in aula, da Marco Pannella a molti altri dagli anni 70 in su, ad altre forme di iniziativa per svelare il gioco del governo, che ancora nell'opinione pubblica non è stato ancora ben compreso o non è così in superficie come dovrebbe essere. Io la ringrazio molto della sua disponibilità. Ringrazio il senatore Nencini del Partito Socialista Italiano.